Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Apriamo parlando di questo freddo glaciale che sta attraversando tutta l'Italia. Allora sentiamo la situazione nella nostra regione. Continua l'ondata di gelo che sta interessando l'Italia. Fortunatamente il Veneto nel weekend appena trascorso non è stato interessato da nevicate previste, ma le temperature sono state glaciali. Termometro abbondantemente sotto lo zero ovunque. Belluno meno 13, seguito da Verona meno 11. Vicenza meno 10, Treviso meno 9, Rovigo meno 8 e Venezia e Padova meno 7. In caduta libera le temperature anche in montagna. Nella piana di Marcesina si sono segnati meno 25 gradi. Ad Asiago meno 22, in Pian del Cansiglio meno 20. In questi giorni non sono rari gli spettacoli visivi che da anni non si vedevano più. Fontane ghiacciate, fossi con i lastroni e perfino ampi tratti di laguna a Venezia si sono ghiacciati. Oggi sole su tutta la regione, ma il clima resta rigido. E restiamo ancora sull'argomento maltempo perché sono davvero tante le notizie. Il rigassificatore di Rovigo a largo delle coste venete è fuori uso a causa del mare grosso. L'interruzione aggrava la situazione già critica delle forniture di gas perché fino a quando non miglioreranno le condizioni del tempo nessuna nave potrà ormeggiare, ovviamente per una questione di sicurezza. Il volume di gas inviato nella rete nazionale Gasdotti è stato ridotto e la ripresa delle normali attività dipenderà dalle evoluzioni del meteo. Nel Vicentino risultano attualmente esauriti tutti i posti letto messi a disposizione per il senza tetto. Anche la Caritas Vicentina in questi giorni ha ampliato i posti letto per portarli da 15 a 75 e dunque risulta davvero tutto funzionante a pieno regime. In caso di necessità il sindaco ha detto che verranno messi a disposizione nuovi posti in altre strutture messe a disposizione dal comune. Al momento la situazione è sotto controllo ma il primo cittadino vicentino ha spiegato che ci sono anche dei senza tetto che nemmeno in questa circostanza vogliono essere aiutati. Molte di queste persone ha spiegato che rifiutano l'aiuto perché sono in stato di clandestinità ma Achille Variati, sindaco di Vicenza, ci tiene a far sapere che l'aiuto arriverà al di là di quello che è il loro status. E oggi pomeriggio è stato presentato dal sindaco di Padova, Flavio Zanonato, il piano di emergenza in caso di nevicate come sono state preannunciate appunto dal meteo. Ma sentiamo che cosa è stato detto durante l'incontro che si è svolto in Comune. Già da giorni le previsioni del tempo ci avvertono che anche qui da noi arriverà la neve e Padova si dice pronta per affrontare tutti i disagi che ne derivano. Si è tenuta a proposito una conferenza stampa sull'emergenza neve dove il Comune ha presentato il suo piano per affrontarla. La sala operativa della Polizia Municipale sarà costantemente aggiornata con le previsioni meteo per poter allertare in tempo le squadre di pronto intervento. In caso di necessità funzioneranno i mezzi spargi sale e gli spazzaneve. Ci sono già dei percorsi stabiliti come le rotatorie, i cavalcavia, i sottopassi, ma anche le strade di grande affluenza, le scuole, gli ospedali, la stazione ferroviaria e dei bus e le fermate del tram. A presentare il piano emergenza neve in città il sindaco di Padova Flavio Zanonato. Allora sindaco in previsione di una bella nevicata la città è pronta? Per ora non abbiamo ancora una previsione certa. Potrebbe essere che venerdì o sabato arrivi una quantità di neve tale da richiedere un intervento e ci siamo predisposti con un insieme di iniziative. La più importante delle iniziative è la collaborazione dei cittadini. Ma poi come comune abbiamo previsto di fare una serie di cose. La prima cosa è ripulire la città con le lame. Ne abbiamo un numero adeguato e sufficiente per fare un bel lavoro. La città è divisa in sei parti, ogni zona ha un'attività predisposta a ripulire dalla neve le strade. Marciapiedi, siccome poi ci sono le macchine a fianco del marciapiede in sosta, è importante che siano ripuliti anche dai cittadini e quindi abbiamo una distribuzione di sale e di pale presso i nostri magazzini. Basta telefonare alla polizia municipale, il numero di telefono è lo 049 820 5100 e si hanno tutte le informazioni necessarie. Se la situazione diventerà particolarmente pesante, chiudiamo le scuole, in modo tale da non obbligare le famiglie a portare i ragazzi a scuola, con tutti i disagi. Abbiamo a disposizione anche tutta una serie di altre possibilità offerte dal fatto che spaleremo la neve noi, con volontari e con altri che ci danno una mano, in tutti i punti che caratterizzano i servizi pubblici fondamentali. Insomma ci siamo preparati. Il trasporto pubblico funzionerà, che è dotato di gomme apposite per poter circolare anche in questa circostanza. Il sindaco naturalmente invita tutti i cittadini a collaborare per cercare di ridurre al minimo gli inevitabili disagi che una nevicata può portare. E purtroppo questo clima potrebbe gelare le tubature dell'acqua che si trovano all'esterno degli edifici. E allora sentiamo alcuni consigli davvero utili da mettere in pratica. Sono stati forniti da APS Padova. Condutture dell'acqua a rischio. Le temperature rigide di questi giorni potrebbero far gelare l'acqua nelle tubature e nei contatori che sono esposti esternamente. Per evitare complicazioni è utile adottare qualche accorgimento o antigelo. Maggiori attenzioni sono richieste dalle apparecchiature collocate all'esterno delle case. Per i contatori che si trovano in pozzetto un'eccellente coibentazione si ottiene mediante sacchetti pieni di ritagli di giornale. Mentre per i contatori esterni il rimedio più semplice è rivestirli con stracci o vecchi maglioni. In entrambi i casi è utile tenere un rubinetto aperto soprattutto nelle ore notturne lasciando correre un filo d'acqua. Ne basta davvero poco perché l'acqua non ghiacci. Laddove è possibile per gli impianti di irrigazioni, fontane esterne e simili è bene vuotare completamente il circuito. Per gli appartamenti inutilizzati si consiglia di chiudere la valvola principale lasciando aperti tutti i rubinetti. E un altro allarme gelo lo lancia la Col di Retti. C'è preoccupazione per le coltivazioni all'aperto ma non solo, anche per gli allevamenti di bestiame. Ce ne parla Alice Ferretti. C'è preoccupazione nel settore dell'agricoltura in provincia di Padova. Con le temperature in picchiata degli ultimi giorni numerose coltivazioni rischiano di andare perse. Lo afferma Col di Retti riferendo che stamattina il termometro segnava in meno 8 e meno 9 gradi in tutta la provincia. Un'ondata di gelo che potrebbe non risparmiare le coltivazioni invernali in campo aperto come radicchio, cavoli, verze, cicorie e tutti gli altri prodotti non porotetti da serre o coperture. Ma il problema del freddo polare non riguarda solo il campo dell'agricoltura ma anche quello dell'allevamento. Le temperature alla soglia dei meno 10 gradi stanno ghiacciando gli abbeveratoi delle mucche da latte. E per questo motivo gli allevatori, riferisce Col di Retti, sono costretti a svuotare completamente le condutture degli abbeveratoi per evitare che gelino e si spacchino oppure devono lasciare sempre un filo d'acqua in modo che il passaggio costante scongiuri la formazione di ghiaccio. Quelli che ne risentono di più del drastico calo delle temperature sono però i vitellini che devono essere tenuti rigorosamente su paglia ben asciutta e al riparo dai venti. Sempre Col di Retti ha infine ricordato la disponibilità degli imprenditori agricoli a mettere a disposizione in caso di nevicate previste nel nostro territorio nei prossimi giorni i propri trattori che saranno utili a spazzare la neve anche nelle zone più impervie ed isolate. Sventata una tragedia a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza una famiglia di 7 persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. La famiglia per scaldarsi aveva acceso un bracere che durante la notte ha sprigionato il monossido. a svegliarsi con un malore molto forte è stato il capofamiglia che ha allertato il 118. Sul posto sono piombati i soccorsi che hanno portato tutti all'ospedale. Tra loro c'erano anche due bambini piccoli. Nessuno è in pericolo di vita ma sono stati sottoposti a ossigeno, terapia e sono in osservazione. Ieri incidente stradale sulla regionale 308 a Campo San Piero nel Padovano. Due i feriti. Vediamo le immagini dell'incidente. Incidente stradale ieri sera sulla strada regionale 308 a Campo San Piero nel Padovano. Erano le 19 quando due auto si sono scontrate frontalmente, una Ford Fiesta e un Audi A6. Le cause dell'impatto sono in fase di ricostruzione. Al momento non è possibile tracciare una dinamica. Sul posto sono giunti i soccorsi e i conducenti delle auto sono stati portati all'ospedale. Nessuno dei feriti sarebbe grave. Per permettere i soccorsi e i rilievi con la successiva rimozione dei mezzi, la strada è stata bloccata per almeno due ore. Nuovo colpo di scena sulle indagini legate all'omicidio di Lucia Manca, la bancaria di Marcon. Renzo De Cleva, il marito della donna rinchiuso in carcere la scorsa settimana, aveva fatto una confessione mentre era in auto da solo. A registrarla sarebbe stata una cimice che era stata nascosta nella sua auto. Un dialogo solitario il suo dove evidentemente credeva non lo sentisse nessuno. Le sue parole sono state chiare, è omicidio, il mio è omicidio. Queste le parole che sono state registrate il 25 novembre. Dolore dopo l'incidente aereo avvenuto ieri vicino all'aviosuperficie di Caposile, nella Veneziano. Le due vittime che si trovavano a bordo del velivolo che si è schiantato al suolo erano molto conosciute e amate. Franco Borin, Iesolano, 45 anni e Simone Conte, 18 anni della provincia di Treviso, erano stati in compagnia degli altri soci dell'aereoclub. Avevano trascorso la mattinata insieme e poi avevano preso il mezzo per fare un volo. Borin era molto esperto e per questo tra chi lo conosceva e chi era presente ieri resta molta incredulità. Secondo le testimonianze il mezzo avrebbe iniziato a perdere quota e girando su se stesso avrebbe impattato al suolo incendiandosi. Per i due purtroppo non c'è stato nulla da fare. I resti del velivolo sono stati posti sotto sequestro. Il grande raccordo anulare di Padova non passerà per l'area naturalistica del Tavello. Una decisione presa dal Ministero dell'Ambiente che se per qualcuno fa tirare un sospiro di sollievo, o per qualche altro, creano un po' che perplessità. Ascoltiamo. Il GRA, grande raccordo anulare a Padova, non si farà. È quanto stabilito dall'istruttoria della valutazione di impatto ambientale emessa dal Ministero dell'Ambiente. Impatto troppo elevato sul territorio, questa è la motivazione che arriva da Roma. E se prima l'area naturalistica del Tavello, lungo il Brenta, rischiava di essere percorsa dal tratto nord del raccordo, ora si può dire salva. Niente più viadotto, niente più cemento. Sarebbe stato, a detta del Ministero, un vero e proprio danno ambientale. Il programma di pianificazione del GRA, dunque, non comprenderà quest'area, che in principio avrebbe dovuto collegare l'Imena a Cadoneghe. Rimarrà invece il progetto della trasformazione dell'idrovia in strada tra Padova e Venezia, attraverso i comuni di Saonara e Vigonovo. Una decisione questa che ha creato non pochi dubbi. Uno tra questi, ad esempio, è di dove andrà incanalato il traffico diretto verso la zona industriale di Padova. E se il sindaco di Limena, Giuseppe Costa, si dichiara soddisfatto della scelta di salvaguardare l'area del Tavello, non si può dire lo stesso per il sindaco di Vigo d'Arzere, Francesco Vezzaro. Vigo d'Arzere, infatti, in questo modo, resta bloccata tra i due fiumi, Brenta e Muson dei Sassi, senza uno sfogo verso Padova. Inoltre, il paese, senza il gra, perde anche la possibilità di tutte le opere di risistemazione della viabilità. Un falso dentista siriano che eseguiva visite e interventi a domicilio è stato denunciato per vari reati, da esercizio abusivo della professione medica a lesioni fino alla rapina. L'uomo eseguiva la sua attività in tre regioni, Veneto, Toscana ed Emilia. I suoi clienti erano principalmente di nazionalità araba. Il 42enne, infatti, si pubblicizzava in vari locali di Kebab. Le indagini nei confronti dell'uomo sono scattate in seguito alla denuncia di una donna incinta che era stata brutalmente picchiata ma anche rapinata. Tra i due era nata una lite per un lavoro fatto in malo modo e, tra l'altro, in casa. La donna, in quell'occasione, era stata percossa e derubata. Poi il falso dentista si era dileguato, forse convinto di farla franca. Le indagini coordinate dal pubblico, Ministero Giuseppina Mione, hanno portato gli agenti nella casa dell'uomo. Recuperato anche vario materiale utilizzato per le cure odontoiatriche, materiale in pessime condizioni igieniche. L'autista di un furgone è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente sulla strada tra Zevio e Albaro, nel Veronese. L'uomo, forse a causa del fondo stradale ghiacciato, si è schiantato contro un camion che era fermo sul ciglio della careggiata. Il mezzo è rimasto incastrato sotto il rimorchio per estrarlo dalle lamiere. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, poi il suo e me lo ha trasportato all'ospedale. Controlli della polizia in zona Arcella, Padova. Arrestato un tunisino con più di un chilo e mezzo di eroina. Ascoltiamo. Continuano sempre numerosissime le segnalazioni alla polizia di Padova provenienti dai comitati di circoscrizione, residenti e commercianti della prima Arcella. E proprio per questo si susseguono ormai da settimane controlli ed accertamenti delle forze dell'ordine. L'ultimo arresto eseguito dalla squadra mobile nel quartiere è quello di un tunisino bloccato con più di un chilo e mezzo di eroina. Gli agenti, dopo una serie di appostamenti, hanno dapprima individuato l'appartamento dove era stato registrato un continuo andirivieni di stranieri. Poi hanno dato il via ad una perquisizione dello stabile. All'interno hanno rintracciato il tunisino di 25 anni, trovato con 50 grammi di eroina. Il resto della droga, un chilo e mezzo, era nascosta in un baule di un motorino apparentemente abbandonato nel cortile della casa e di cui lo straniero deteneva le chiavi. A fare la guardia al kit di preparazione delle dosi di droga e alle chiavi all'interno dell'appartamento c'era un cane Rottweiler. E in corso a Australia, sempre a Padova, è stato arrestato un uomo che senza lavoro si era trasformato in un tassista abusivo ma i suoi clienti erano spacciatori di droga. Maurizio Manfrotto, 53 anni, è stato notato perché in auto con lui c'erano due uomini di colore già noti alla polizia. Fermato per un controllo e dando il via ad alcuni accertamenti più approfonditi, i poliziotti hanno scoperto che l'uomo accompagnava i trafficanti in vari punti della città e per questo servizio veniva pagato in denaro ma anche attraverso dosi di cocaina. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 25 grammi di stupefacente. L'uomo è finito in carcere. Ancora a Padova, dopo la rapina alla tabaccheria maritana di Via Palestro, un altro colpo poco distante. In questo caso non si è trattato di una rapina ma di una spaccata avvenuta all'alba. Obiettivo dei malviventi, un bar di Via Piave. I ladri hanno infranto la vetrata e una volta all'interno dei locali hanno fatto razzia dei soldi contenuti in cassa, pare 800 euro. Sul posto sono intervenuti le volanti della polizia. A Cittadella, grazie ad un nuovissimo sistema di telecamere e altoparlanti, i vandali potranno essere ammoniti dagli agenti direttamente dalla centrale operativa. Un nuovo progetto. Sentiamo di cosa si tratta. Arriva da Cittadella una nuova iniziativa per garantire la sicurezza dei cittadini. Ma ecco di cosa si tratta. L'amministrazione municipale ed in particolare il sindaco e parlamentare della Lega, Massimo Bitonci, vogliono installare insieme alle telecamere di videosorveglianza disposte in città anche degli altoparlanti, in modo che chi commette qualche tipo di violazione, oltre ad essere ripreso, potrà anche ricevere un'ammunizione vocale in tempo reale. In pratica si parla di un sistema integrato di telecamere con collegamento ad altoparlante, che farà sì che un agente di polizia locale, nel momento in cui dovesse assistere dalla centrale operativa, ad esempio all'imbrattamento di un muro con vernice spray, potrà riprendere il trasgressore avvisandolo di aver notato il vandalismo ed invitandolo ad esistere dal comportamento e a ripulire l'area danneggiata. Dopo il potenziamento della centrale operativa di polizia locale, con l'installazione di 42 telecamere nel centro storico, nei borghi e nelle frazioni, ha spiegato il sindaco Bitonci, stiamo mettendo a punto un innovativo sistema di controllo del territorio, in grado di interagire in tempo reale con il cittadino utente, che dovesse commettere qualche violazione al regolamento di igiene o di sicurezza della città. Si dichiarano preoccupati i cittadini e gestori di barri in centro storico a Vicenza, questi ultimi per stare più tranquilli al riparo da atti vandalici che si susseguono nel fine settimana, sono stati costretti in più di un caso ad assoldare personale di vigilanza privata. L'ultimo episodio di degrado si è verificato l'altra sera, attorno alle 21.30, quando le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare un gruppo di giovani ubriachi che stavano rovesciando tutte le fioriere in strada. Quattro giorni di sciopero per i medici di base, l'ha proclamato la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, chiusi il 9 e il 10 febbraio, gli studi dei medici di famiglia, garantite solo le visite domiciliari urgenti e quelle già programmate per i malati gravi. L'11 e 12 febbraio invece sciopereranno i medici dell'ex guardia medica e dell'emergenza 118, garantite comunque le prestazioni indispensabili. La protesta è volta a contrastare le norme della manovra Monti che riguardano le casse previdenziali EMPAM, quello che si chiede di mantenere immodificate le proprie mansioni che si poggiano sui soli contributi versati dai medici. Adesso invece parliamo di tecnologia e di un progetto davvero ambizioso che è stato presentato questa mattina all'Università di Padova. Sentiamo. Un lavoro tutto italiano, frutto di tre anni di studio, è stato presentato all'Università di Padova. Un progetto ambizioso che entra nel mondo della tecnologia internet. Si tratta di un motore di ricerca ma con una marcia in più. Si chiama Volunia ed è stato creato da Massimo Marchiori che dopo aver inventato l'algoritmo alla base di Google ha firmato la novità che sta suscitando moltissima attenzione nel mondo degli internauti. Volunia è un motore di ricerca ma con qualcosa in più. È infatti in grado di creare un'interazione tra utenti, quasi un social network. Il progetto tutto italiano è stato finanziato da un imprenditore sardo che da subito ha creduto nelle potenzialità future. In questi giorni Volunia è aperto ai beta tester, utenti iscritti al sito, che avranno il privilegio di navigare e utilizzare il sistema in fase sperimentale. Ma entro pochi giorni tutti potranno usarlo. Adesso uno sguardo alle previsioni del tempo. Abbiamo sentito in apertura un po' cosa ci aspetta anche per la giornata di domani. Nello specifico l'Arpav segnala che la depressione presente sul Tirreno si muove lentamente verso sud mentre un'altra bassa pressione attualmente sulla penisola scandinava si muove verso il centro Europa. Nella giornata di domani sarà possibile qualche debole fiocco di neve anche in alcune aree della pianura veneta. In seguito il tempo diventerà soleggiato, ancora clima rigido con temperature molto inferiori allo zero. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci a domani. Grazie a domani. Grazie a domani.